Il problema è che come si faceva nel Medioevo ci si affida alla clemenza del monarca. Io non ragiono in questi termini, come cittadina, come donna di legge e come rappresentante dei cittadini nel Consiglio Comunale. Nessuna concessione alle opposizioni e 34 emendamenti bocciati senza appello. La partita della modifica del regolamento che limita l'accesso ai CDA delle aziende partecipate dal Comune di Bari si è risolta con una decisione a senso unico presa dalla maggioranza, che quindi non introdurrà norme più stringenti come richiesta dalle opposizioni, in particolare da Desiria di Geronimo e dal Movimento 5 Stelle. Secondo il regolamento dunque saranno esclusi a priori, come da legge anticorruzione nazionale, solo i parenti fino al terzo grado del sindaco e degli assessori, ma non dei consiglieri comunali, come chiedeva la minoranza. Secondo De Caro mettere sulla carta questi divieti sarebbe inutile perché lui ha già dichiarato che nomine sospette non ce ne saranno. Una fiducia in bianco che però non piace alle opposizioni che chiedono maggiore trasparenza anche sul fronte della competenza dei candidati a ricoprire quei ruoli. Abbiamo richiesto esplicitamente di pubblicare i curriculum dei candidati alle nomine sulle municipalizzate, le società che appartengono al Comune di Bari, affinché i cittadini possano comprendere chi sono queste persone che si vanno a candidare. Per Di Geronimo la questione della trasparenza resta centrale, dal momento che altre città hanno applicato norme simili a quelle richieste dalla minoranza, pur non essendo costretti da nessuna legge. Altri comuni l'hanno fatto perché sono norme di buonsenso, perché sono indirizzi generali che vengono previsti in questo caso. Altri comuni non hanno avuto bisogno di un cantone magistrato, presidente dell'autorità nazionale anticorruzione, che venisse a dirci che la nomina della partipilo ad assessore al bilancio sarebbe stata in pieno conflitto di interessi. Evidentemente altre amministrazioni si pongono questo problema e se lo pongono prima di fare pasticci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS